Nella Cappella Sistina sono stati i vagiti dei 33 neonati, 20 femminucce, tra cui le gemelle Laura e Sara, i 10 maschietti, figli di dipendenti vaticani, a catturare subito l'attenzione di Papa Francesco. Celebrando la Santa Messa con il rito del battesimo per questi bambini, nel giorno che ricorda quello di Gesù, il pontefice ha esortato i genitori, padrini, parenti a dare il giusto esempio ai piccoli, leggendo quotidianamente il Vangelo e non solo. Voi mamme date ai vostri figli il latte, anche adesso se piangono per fame allatatevi, tranquilli. Ringraziamo il Signore per il dono del latte e preghiamo per quelle mamme, sono tante purtroppo, che non sono in condizione di dare e mangiare ai suoi figli. Il Papa ha quindi spiegato che quello che fa il latte per il corpo, la parola di Dio fa per lo spirito, facendo crescere la fede e il battesimo ci inserisce nel corpo della Chiesa, nel popolo santo di Dio. In questo corpo, in questo popolo in cammino, ha aggiunto, la fede viene trasmessa di generazione in generazione, come in una catena di trasmissione, un passarsi di mano in mano la candela della fede, il Cristo risorto. Voi famiglie prendete da lui la luce della fede da trasmettere ai vostri figli. Questa luce la prendete nella Chiesa, nel corpo di Cristo, nel popolo di Dio, che cammina in ogni tempo e in ogni luogo. Insegnatevi ai vostri figli che non si può essere cristiano fuori della Chiesa. Non si può seguire Gesù Cristo senza la Chiesa, perché la Chiesa è madre e ci fa crescere nell'amore a Gesù Cristo. E l'essere cristiani nel battesimo significa essere consacrati nello Spirito Santo, nello stesso spirito in cui è stato immerso Gesù nella sua esistenza terrena. L'invito del Papa è stato ad aiutare i bambini, affinché diventino veri cristiani, a crescere immersi nello Spirito Santo, nel calore dell'amore di Dio nella luce della sua parola. Dal solito preghiamo Gesù, quando preghiamo il Padre nostro preghiamo il Padre, ma lo Spirito Santo non lo preghiamo tanto. È tanto importante pregare lo Spirito Santo perché ci insegne a portare avanti la famiglia, a portare i bambini, perché questi bambini crescano in questa ammofera della Trinità Santa. È proprio lo Spirito che li porta avanti. Per questo non dimenticate di invocare spesso lo Spirito Santo tutti i giorni.